Il misterioso caso di Halloween È sangue quello, vicino allo specchio di Lady Qui sta succedendo qualcosa Non toccate nulla, fino all'arrivo della polizia sarò io a condurre le indagini Oh no, oggi è Halloween E stando a quanto ho letto online, alcuni studenti si trasformano in vampiri Forza, forza, via di qua, lasciate spazio alle professioniste Lady non risponde Qualcosa non va Tu non centri niente, vero Cristal? Ehi, non farei mai uno scherzo del genere Nemmeno ad Halloween Beh, ad Halloween sì, ma io non centro con questo Dobbiamo scoprire cosa è successo a Lady Come Miss Lupas in il misterioso caso della gallina scomparsa Anche io vi interrogerò una alla volta Daisy, sei la prima Mi prude il collo, sono sicura che sia il morso di un vampiro Qualcuno ha visto Lady oggi? Dobbiamo trovarla Io l'ho vista, ci siamo incontrate stamattina all'ingresso dell'academy È arrivata con il suo scooter E all'ultima ora ho lezione di passerella Elodie mi ha cucito un bell'abito rosso Mi sono portata un rossetto e uno smalto da abbinare Forse si è addormentata da qualche parte prima della lezione Sapete com'è fatta? Quando hai visto una persona scomparsa per l'ultima volta? Beh, stavo pettinando i miei capelli setosi Quando Lady è arrivata all'improvviso in camerino Oggi sarà un successo in passerella Sfilerò con il vestito che Elodie ha fatto per me Dov'è il mio vestito? Ti aiuto a cercarlo Non serve, so chi è stato Tu, tu lo hai preso, confessa Ma se io volevo aiutarla Oh, giusto Continuerò ad indagare Lady Oh no, è soltanto Narvi Crystal, ora interrogo te Avevo preso il suo vestito dall'atelier Ridammelo subito, ho detto Era solo uno scherzo Non arrabbiarti Eccolo qui Continua Se n'è andata in lacrime perché non aveva un vestito per la passerella Ci hai mentito Hai detto di non averla vista Sì, perché avevo paura che pensaste che fosse tutta colpa mia Ma non so dove sia Lady Perché nessuno mi ascolta? Ve l'ho detto, è la maledizione dei vampiri Spariremo tutte una dopo l'altra Vampiri? Interessante Jenna, vieni a testimoniare Dobbiamo trovare Lady Siamo le sue BFF Can't help to be frightened Can't help to feel scared It is Halloween And there's a mystery Gotta look for clues Gotta look for anything We'll always be there for each other We always give our best to discover All of the things that I hide and promise We will not give up We will find you So don't be scared In our hearts We know that you'll be okay We will find you So don't be scared Together we care Cause we're unstoppable 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 Sono passate ore da quando qualcuno l'ha vista La terra sembra averla inghiottita Tocca a te, Shaq Hai visto Lady? Sì, questa mattina Pianzeva con Elodie Ok, ok Non ho detto niente Perché io e Sky Abbiamo avuto un imprevisto E comunque pensavo Che si sarebbe fatta viva Ecco Credo di avere talento Per la scherma In guardia Vi sconfiggerò Mi dispiace No, Lady Si arrabbierà molto Ho solo mezz'ora Per sistemarlo Ma dobbiamo andare La limousine ci aspetta Dopo potrai sistemarlo Ok Wow Il vestito di Lady Le farò uno scherzetto Aspetta Posso sistemare il vestito a casa? Crystal! Crystal! Oh no Crystal lo ha messo nell'armadietto Che cosa facciamo? Devo aggiustarlo Fatto Ridammelo subito Ho detto Era solo uno scherzo Non arrabbiarti Eccolo qui E poi quando ho visto Che piangeva Le ho detto Che avevo io il suo vestito Per aggiustarlo Ragazzi Ci servono più indizi Per trovare Lady C'è di sicuro qualcosa qui intorno Che serata Siete certe che non ci saranno vampiri? Oh, piantala con questi vampiri Sembri Jenna Ehi, ti ho sentita C-cos'è stato? Avete sentito? Che cos'è? Un vampiro? Oh, eccomi finalmente Lady Non sapevamo dove fossi Jenna credeva che ti fossi trasformata in un vampiro Beh Miss Collect pensa che tu sia stata rapita Un vampiro? Rapita? Oh, ecco il mio specchietto Il fatto è che mi stavo mettendo lo smalto a color fragola Quando Elodie mi ha portato il vestito Ma ci ho rovesciato sopra lo smalto e l'ho sporcato Che disastro Quindi sono andata a lavare il vestito per stasera Ora sì che torna tutto Pensavo che non ce l'avrei fatta Devo esibirmi fra mezz'ora Beh, giusto il tempo per uno spavento a Miss Collect Sì, è davvero una prima idea Oh sì, assolutamente Mistero risolto! I vampiri hanno rapito Lady Perché volevano un vestito realizzato dalla principessa Lady, no! Non farlo! Sì, sono un vampiro Ormai è una di loro No, non me No! No! Oh! No! T.S.S. Il talento nascosto del principe. Attenzione, annuncio importante. Le prove per il prossimo spettacolo si svolgeranno in coppia. In coppia? Devo trovare qualcuno! Ciao, stiamo insieme. Buon lavoro! Meglio che mi sbrighi. Sono già tutti in coppia. Wow, che seccatura. Ciao, Sky. Ti andrebbe di fare coppia con me? Eh, ok. Evviva! Shannon! Shadow! Cosa? Oh no, voi non svelerete il mio piano. BFL! BFL! Tornate qui! Guarda che brave! Sono strepitose! Hanno unito i loro due talenti. Allora, vediamo un po'. In cosa sei bravo? Eh, bella domanda. Io non ne sono sicuro. Credo di cavarmela bene con la giocoleria. Però, a dirla tutta, non è che ci vado matto. Vuol dire che non è il tuo vero talento. Ti aiuto a scoprirlo? Sei pronto? Jenna, Cristel e io pensiamo che potresti essere un bravo cuoco. Cucinare. Proprio così. Per prima cosa, devi sapere che bisogna maneggiare gli ingredienti con grande cura. È meglio provare qualcos'altro. Ma perché hai tanta fretta? Non potevamo finire il pisolino. A Sky serve il tuo aiuto. Devi insegnargli a sfilare su una passerella. Oh, beh, per quello ho sempre tempo. Beh, non mi sembra molto interessato. Via, pal! Via, pal! Adesso vi acchiappo! Shannon! Proviamo la pittura! Io passerei a qualcos'altro. One, two, three, four. One, two, three, four. Senti il ritmo della musica. One, two, three, four. Andiamo, di sicuro ce l'hai qualche talento. Che ne diresti della chitarra? Cantare? Immersioni? Tiro con l'arco? Salto con l'asta? Paracadutismo? O karate? Parkour! Scrivere poesie? Atletica? Dormire con i calzini? Giardinare? Nutrire i pesci? Scherma? Ragazze, basta! Vi ringrazio! Ma devo scoprire da solo qual è il mio talento! Acchiapperò quelle piccole pesti! Bene, benissimo! No, no! Male, malissimo! Peggio di così, non poteva andare! È chiaro che non ho nessuna passione. Farei meglio a tornare a castello. Dannate, Jelly! Di certo non sapranno resistere a questa! Oh, wow! Questa torta sembra deliziosa! Sì! Me ne sono liberata! Addio! E a mai più rivederci! Vorrei poter volare via da qui! Non posso crederci! Un cavallo alato! Ti sei perso! Che ci fai qui? Tranquillo! Ora mi è tutto chiaro! Ti sei perso! Beh, siamo in due allora! Perché neanch'io so bene che cosa ci faccio qui! Oh? Oh? Oh! Sono davvero ingroppo a un cavallo alato! Wow! Evviva! È fantastico! È fantastico! È meglio che non ti vedano! Adesso ti porto al castello e poi capiremo come fare! Molto bene! Ora che siete tutti in coppia, possiamo finalmente iniziare le prove! Ehm... Jenna, cara! Dov'è il tuo partner? Io... Beh, ecco... Finalmente me ne sono liberata! Oh, sì, sì, sì! La foto! Ehi! Tornate qui! Ehi! Ridatemela subito! L'ho presa! Oh, Shannon! Perfetto! Starei tu in coppia con Jenna! Come ha detto? Ma dov'è Sky? Dici che è riuscito a scoprire il suo talento! Yuhu! Guardate cosa so fare! E lo adoro! Ehi! 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 You know the sky's the limit! It is time to dream! It is time to dance! And we always will be! Truly, truly friends! Truly, truly friends! VSS! Benvenuti a Big Dreams, il talent show delle BFF. Durante lo show ogni concorrente mostrerà le proprie abilità. Voglio rovinare la loro gara. Vediamo se sono così amiche come dicono. Salviamo Rim! Su, Rim, da questa parte. Sono felice che tu sia qui, ma non devi farti vedere. Attenti, telecamera! Non muoverti! Stai ferma, immobile! Grazie per il vostro aiuto, ragazze. Non volevo lasciare Rim a casa da solo. Non ringraziarci, anche noi teniamo a Rim. Qui starai bene, non allontanarti e non farti notare. Chissà come reagirebbe Miss Collette se dovesse vederti. Ha un sonno tremendo. Non davanti alle telecamere. Vi hanno scoperte! Controllate la chat di Big Dreams. Ma come è possibile? Chi l'ha postato? Hanno scoperto Rim! Qualcuno vuole metterci nei guai. Sì, ma chi potrebbe essere? Un post a dir poco incredibile. Chi mai vorrà farvi scoprire? È un animaletto così carino? Ora che facciamo? Devo andare da lui prima che lo trovino. Ancora quella bestia? Ora chiamo il direttore per farlo cacciare dall'academy. Devo trovare subito Rim. Noi dobbiamo andare, ma penseremo a qualcosa. Ti aiuto io, Dreamy. Andiamo? Anch'io. Ehi, Laura. Guardate, quello è il principe. Finalmente mio fratello è arrivato. Ehi, sei in ritardo. Te ne rendi conto? Non preoccuparti, sorellina. Sky, vieni a lezione con noi? Ok. Dove sarà finito? Rim! Oh, c'è un vento tremendo. Ehi, una telecamera. Andiamo. Rim! 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 Per fortuna ti ha trovato. Dobbiamo fare in modo che Rim non venga cacciato. Che ne dite di travestirlo da cane? O di nasconderlo in un ripostiglio. Tranquillo, nessuno vuole rinchiuderti. Rappiamo Miss Collette e la teniamo in ostaggio finché non accetta. Aspetta, non ti sembra di esagerare? Spero che le altre abbiano trovato una soluzione perché qui... Oggi parleremo di come associare l'espressività alla gestualità. Coraggio, tutti insieme. Tristi, tormentati. Felici, più felici. È il giorno più bello della vostra vita. Ho pensato tanto a come fermare quest'ingiustizia, ma non ho trovato una soluzione. Neanch'io. Eppure il sangue alla testa mi arriva e come. Tranquillo, Narvi. La prossima volta andrà meglio. Sky, va tutto bene? Mi sei sembrato un po' distratto. Che mi annoio. Che cosa? Alla tua età tutto dovrebbe essere entusiasmante. Se ti andrà di parlare, ti aiuterò in ogni modo possibile. Grazie, lo terrò presente. Nicoletta, davvero è qui per aiutarci in ogni modo possibile. Sì, perché? Deve aiutarci con Rim. Quello che sta succedendo è ingiusto. Non posso fare molto se per Miss Collette non può restare. Oh, la prego. Rim è un animale molto affettuoso e ha bisogno di stare con noi. Forse potrei sollevare la questione alla prossima riunione con il direttore del programma. Oh, sta cominciando proprio adesso. Sentiamo che dicono. Proprio così, direttore. C'è un animale nella struttura. Chiamerò la disinfestazione. Di sicuro alle pulci. Ma i cavalli non hanno le pulci. E poi questo qui è davvero adorabile. Quel mostro spaventerà gli spettatori. Secondo me ne attirerà di più, invece. Chi non ama gli animali? Basta discutere. Vediamo cosa ne pensa il pubblico e agiremo di conseguenza. Avete fino a domani a mezzogiorno per scoprirlo. D'accordo, direttore. Stanno arrivando. Ti garantisco che domani se ne andrà. Le visualizzazioni dovranno salire alle stelle. Come facciamo? Mi è venuta un'idea. Prendi il cellulare. Miss Collette, ho visto quell'animale disgustoso che lasciava impronte dappertutto. Lo so, Shannon. Ma presto quell'animale dovrà lasciare l'academy. Pronti? Ciac, azione! Ciao, io sono Elodie. Vedete questo animale meraviglioso? Volete che rimanga qui all'academy? Beh, lasciando un commento con l'asta di salviamori, ci aiuterete a farlo restare e parteciperete all'estrazione per vincere questo vestito. È il mio migliore amico fin da quando ero piccola. Non lasciate che me lo portino via. Vai, Sidney. Tocca a te. Ops, scusate, sono un bel impiastro. Quello sembrava più karate che un balletto. Oh no, il cartello è volato via. Cosa facciamo adesso? Ti prego, Sky. Puoi giocolare? Ci servono altri video. È impossibile con questo vento. Un'altra volta. Dai, è per una buona causa. Sono le dodici. Il tempo è finito. Ora chiamo il rifugio per animare. Non può portarlo via. È ingiusto. Ho bisogno di Rim al mio fianco. Attente, Nicoletta! Mi scolletto! Attenzione! Bravissimo, Rim. Sei un eroe. L'hai salvata. Sidney, dimmi che hai ripreso. Tutti vogliono che Rim resti. Bene, bene. Ho caricato il video e il pubblico desidera che Rim rimanga. Beh, se lo vuole il pubblico, allora è deciso. Ovviamente dovete trovare un posto in cui sistemarlo. Non può certo dormire dentro l'academy. Evviva! Puoi rimanere! È fatta. Rim resterà qui con noi. Ecco fatto. Rim adesso ha un posto dove stare. Grazie per l'aiuto, BFF. Siete le migliori. Urra per Rim! Oh, che succede? Ciondoli! Ora fate ufficialmente parte delle BFF! Non me ne va una per il verso giusto e loro sono amiche più di prima. Big Dreams, il talent show! Guarda, qui è quando Crystal aveva la febbre e il suo igloo si stava sciogliendo. Comincia! Il talent show con le nostre BFF! Benvenuti a Big Dreams, il talent show delle BFF. Durante lo show, ogni concorrente mostrerà le proprie abilità. Sydney non è cambiata. Ogni giorno assisteremo alle loro esibizioni. Ma solo una vincerà. Le potrete seguire grazie alle telecamere che le riprendono 24 ore su 24. A tra poco! Big Dreams, il talent show delle BFF! Che emozione! E ora che succede? Oh, wow! Adoro il tuo look! Anche tu stai alla grande! Buon primo giorno al Big Dreams show! Selfie! Oh no, che faccia! La cancello subito! Ehi, ridammi il telefono! Che bello essere di nuovo insieme! Siete il mio ingrediente preferito! Vi voglio bene! Andiamo, non vedo l'ora! Oh, chissà come sarà! Wow, incredibile! È ancora meglio di quello che immaginavo! Lo adoro! Oh sì, i miei dolci verranno benissimo! È incredibile essere qui tutte insieme! Nulla può rovinare il momento! Ehi là! Prova, prova! Ho bevuto troppe tisane oppure quella era la voce di... Discolette, la direttrice di Big Dreams! No! Tutte le concorrenti sono attese nella sala prove! Oh, non ci libereremo mai di lei! Oh, eccole le migliori amiche! E io qui da sola, come sempre! Voglio rovinare la loro gara! Vediamo se sono così amiche con piccolo! Com'era? Io credo nella magia! Forse la magia dell'amicizia? Oh, è impossibile! Wow, abbiamo un palco in piasse! Io provo i miei passi migliori davanti allo spesso! Benvenuti alla Big Dreams Academy! Sono la direttrice Miss Collect e lei è Nicoletta, la vostra insegnante! È un piacere conoscervi ed essere qui! Faremo brillare i vostri talenti! Come vedete, ci sono telecamere dappertutto! Vi riprenderanno sempre così che il pubblico da casa potrà vedervi! Registreranno ogni prova, ogni vostro movimento! Sarà bellissimo! Sì, è vero! E lei? Non è un volto nuovo! Non ti ricordi? È la principessa Elodie! Eravamo piccoli! Wow! Ragazze, silenzio! Non sento una parola di quello che dicono! E saranno i momenti in cui mostrerete al pubblico a casa il vostro talento! Buona fortuna! Cosa ha detto? Di che momenti parlava? Se foste state zite un secondo! Dai, andiamo! Ciao, Elodie! Ti ricordi di noi? Da piccole giocavamo con te e tuo fratello Sky al vostro castello! Certo che sì! Ci divertivamo! Vorrei che il castello fosse più vicino! Non riuscirò a mostrare la mia abilità di stilista perché ho lasciato lì le mie stoffe speciali! Al castello! Posso accompagnarti, per favore? Cioè, se ti va! Insomma, potrei darti un passaggio fino a lì con il mio scooter! Lo faresti davvero? Certo! Ma dove vanno? C'è la presentazione dei talenti! Stai tranquilla, sono le ultime e torneranno in tempo! Portale, portale, apriti un pochino! Se continuo così mi farà la nausea! Cuore strappato? No, 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 no! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Non dirmi che devo anche fare il balletto! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Finalmente! Ora vedranno come... Ehi, sta giù! No, queste cellule! Bentornati! Bentornati! Siamo pronti per presentarvi i talenti! Ecco a voi, Crystal! Ciao, sono Crystal e adoro la danza moderna! E ora vi presento Connie! Sono Connie e vado pazza per la cucina! Buoni, vero? Vi svelo l'ingrediente segreto! Tanto amore! Seguitemi sul mio canale Cucina con Connie! Signore e signori, Jenna! Oh no! Non ce la faccio più! Non è vero perché sono un'attrice e adoro il dramma! Sono Jenna! Lady e Delodi non sono tornate e fra dieci minuti è il turno di Lady! Sono come una pentola a pressione! Pronta ad esplodere! A che tocca adesso? È il turno di Sydney! Ehi, Sydney! Tocca il tuo balletto! Ora sei agitata? Mi piace il balletto! Beh, un pochino sì, ma non importa! Adoro danzare! Ciao, buongiorno! E quella chi è? Ma che strano! Era da tanto che i nostri ciondoli non si illuminavano! Forse qualcosa non va! E ora la nostra stella del balletto, Sydney! E io, Shad... Shannon! Oh sì, Shannon! Shannon, non ti vedo sulla lista! Davvero poco professionale commettere questi errori? Siamo in diretta! Oh sì, Sydney e Shannon! Tocca a voi! E quella chi è? E ora? Una futura modella! Lady! Dov'è Lady? 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 Tieni questo! Corri! Sì, buona fortuna! Wow! Lady! Ce l'ha fatta! E ora la nostra principessa stilista, Elodie! Psst! Puoi farcela! Grazie per averci seguiti! Alla settimana prossima con Big Dreams, il talent show delle BFF! Lo adoro! Che stress! Non pensavo che avremmo superato il primo giorno! P fortsi! E from... Il... E... P69 E... Grazie a tutti.